Oggi vi facciamo vedere i danni e i problemi che possono scatturire da un utilizzo di una macchina normalmente stradale quando viene portata in pista. Seguite questo video imparerete diverse cose. Bentornati ragazzi sul canale 9000 giri elaborazioni. Come premesso oggi parliamo di un problema o di una problematica che spesso i nostri clienti sottovalutano in sostanza. Ci sono alcuni clienti che preferiscono utilizzare la macchina in maniera sportiva giustamente in pista, quindi vanno in pista quando ci sono le sessioni a Monza piuttosto che in altre piste utilizzando una macchina diciamo più o meno preparata e questo non fa una grinza quindi è molto meglio utilizzarla in pista che non a livello stradale dove è vietato fare determinate cose e fin lì non ci piove. Quello che secondo me va puntualizzato e bisogna che diciamo soprattutto alcuni clienti lo capiscano bene è che non è detto che con la macchina stradale pur con alcune parti modificate la macchina vada bene anche in pista cioè sono pochissime le macchine dove uno corre in pista utilizza la stessa macchina per tornare a casa. Ne cito una a caso che appunto la Porsche però sono ripeto casi del tutto eccezionali. In questo caso questa è una BMW 430 XD quindi una macchina con 250 cavalli fra l'altro rimappata quindi diciamo che è una macchina sui 280 cavalli. La storia di questa macchina nasce appunto dal fatto che un mesetto fa prima delle vacanze il cliente mi chiama e mi dice guarda io ho questo tipo di vettura vorrei appunto fare un upgrade sull'impianto frenante perché sono quasi al limite. In questo tipo di macchine hanno un segnalatore proprio a livello di elettronica che dice quanti chilometri rimangono prima di intervenire nella sostituzione dei dischi e delle pastiglie per cui diciamo c'è una un'indicazione ben precisa. In questo caso il cliente ci chiama e dice guarda più o meno vado a memoria mi rimangono 7000 chilometri. Faccio una cosa domani c'è una sessione a Monza vado finisco i dischi e le pastiglie tanto lo dobbiamo cambiare poi ti porta la macchina avevamo già ordinato il materiale quant'altro poi ti porta la macchina e sistemiamo il tutto benissimo. Lo sento all'inizio della settimana dopo e mi dice guarda la macchina sì sì te la porto ma te la porto sul carroattrezzi. Che cosa è successo in sostanza? Lui è andato in pista, lui è un suo amico, hanno fatto non so quanti giri ma neanche tantissimi. Non si sono accorti che quello che era il residuo del materiale della pastiglia in sostanza era arrivato al limite in maniera velocissima per cui questo discorso dei 7000 chilometri segnalati dal computer assolutamente non era attendibile. Morale della favola che hanno fatto almeno un paio di giri con ferro su ferro come si suol dire non si erano neanche accorti di questa cosa. Hanno fatto delle staccate alla fine ovviamente hanno hanno se ne sono accorti perché la macchina proprio non frenava più però diciamo hanno fatto un paio di giri dove la pastiglia è arrivata talmente al limite vi faccio vedere tanto per giusto per farvi vedere questa è una pastiglia lo si vede perfettamente addirittura si è piegato dal calore si è piegata la piastrina che qua è incollata la pastiglia. Questa addirittura si è fuso il cilindretto della pinza dopo vi facciamo vedere anche il cilindretto cioè un disastro nel senso che questa parte qui che è quella che va a copiare il disco ha raggiunto una temperatura tale che ha piegato il metallo lo si vede perfettamente qua ha piegato il metallo e ha addirittura fuso e strappato fuori dalla pinza quello che è il cilindretto per poterlo togliere abbiamo dovuto tagliarlo col flessibile cioè questo non c'è mai capitato di vedere una cosa del genere. Questi sono i dischi quando la colorazione del disco come ho detto tante volte chiaramente dal video non si vede però se io faccio così si sente è proprio completamente andato nel senso che tutte quattro i supporti delle pastiglie non hanno più un grammo di materiale queste sono le posteriori queste sono le anteriori un disastro per cui ha grattato via metallo su metallo quindi ha fatto fuori tutte e quattro i dischi tutte e quattro le pastiglie ma la cosa più problematica che ha rovinato i cilindretti di tutte e quattro le pinze infatti la macchina non frenava più perché ovviamente il cilindretto della pinza che è chiuso da una guarnizione da un OR da lì l'olio fuoriusciva e la macchina non frenava più per cui non ha neanche potuto portarcela guidandola lui mi abbia dovuto organizzare un trasporto col carroattrezzi perché la macchina era inguidabile non so neanche come abbia fatto da Monza arrivare a casa tanto per fare un esempio quindi detto questo abbiamo dovuto ricostruire tutto l'impianto frenante tralasciando la pompa che l'unica cosa che probabilmente è rimasta cioè non che probabilmente l'unica cosa che non abbiamo toccato tutto il resto quindi partendo dai tubi perché ovviamente il calore aveva poi anche rovinato gli attacchi dei tubi quindi qua si vede la tubazione del freno che abbiamo deciso in questo caso di rimetterla simile originale in gomma perché quelle in maglia metallica avevano un tempo di consegna troppo lungo quindi li abbiamo messi tutte nuove però in gomma di solito le mettiamo in maglia metallica ovviamente abbiamo avvertito il clienti che la prossima volta vista la lezione non penso che farà più questo genere di esperimenti poi al di là della tubazione abbiamo messo tutto materiale c'è quello che è successo su questo materiale qui sta parlando di materiale di serie quindi materiale stock che può arrivare fino a una certa temperatura in questo caso abbiamo montato dischi dello stesso diametro che sono dischi da 354 questa macchina qua può montare tre differenti tipi di dischi 330 345 e 370 questo è il questo disco da 345 ho sbagliato quindi dischi della tarox da 345 la finitura con queste sinusoidie si chiama f2000 quindi è fatta in maniera tale da creare il meno stress possibile sulla faccia del disco le pastiglie che andiamo a mettere sono pastiglie sportive stradali perché non mettiamo pastiglie troppo aggressive perché chiaramente si dovevano mettere in temperatura e questo a livello stradale non va bene quindi bisogna sempre trovare il giusto compromesso tra una pastiglia che non sia prettamente stradale perché poi fa la fine di queste qui o una pastiglia estremamente dura che va bene solo appunto nei track day o solo in pista quindi bisogna trovare un giusto compromesso e questa pastiglia qua diciamo ottempera tutte e due le funzioni ovviamente va a copiare su un disco che sopporta un calore molto superiore rispetto ai dischi di serie non dico che non sarebbe successo anzi sarebbe successo lo stesso perché nel momento in cui uno non si accorge che non ci sono più pastiglie ovviamente quando va a frenare e la parte di metallo va a copiare il disco qualunque disco uno vada a mettere lo va a rovinare quindi io penso che il cliente abbia imparato la lezione e con questo tipo di dischi si può sempre divertire però quello che gli diciamo di non dar retta ci non arrivare mai così al limite oppure quando uno arriva appunto con il computer che gli dà 6-7 mila chilometri di sicuro non andrà a finire l'ultima parte che rimane in pista perché dopo succedono queste cose qua cioè poteva anche andare molto molto peggio perché nel momento in cui vi hanno tirato giù le pinze le abbiamo dovute revisionare tutte quattro e tre su quattro per demanolio cioè la macchina a certo punto uno chiamava la frenata la frenata la macchina tirava lunga quindi questa è la parte anteriore stesso dicasi per la parte posteriore quindi ho messo tutto nuovo anche sulla parte posteriore già che c'eravamo abbiamo fatto il servizio di verniciatura delle pinze quindi sono state completamente smontate cambiate i cilindretti cambiate le guarnizioni e poi a livello estetico abbiamo fatto la finitura in rosso che male non ci sta verniciati mozzi di maniera tale che la parte rugginosa scompare direi che a questo punto questa macchina può riprendere il suo normale utilizzo ovviamente con le determinate cautele quindi il concetto è utilizzate la macchina in pista va bene però con determinate cautele perché la pista sicuramente ha delle sollecitazioni su tutti gli organi meccanici che siano gomme che siano freni che siano ammortizzatori che sia il motore stesso che a livello stradale non non vengono subite dalla dalla vettura quindi quando uno va in pista chiaramente tutti quelli che sono i componenti vengono stressati fino a limiti a volte dove il componente stesso cede questo appunto è un esempio un esempio classico però abbiamo visto altri clienti dove sono arrivati con delle gomme sulle tele praticamente perché soprattutto in estate quando c'è molto caldo l'asfalto della pista è molto aggressivo per cui mangia molto quello che sono le mescola delle gomme ammortizzatori anche in questo caso a stare molto attenti quindi occhio a non utilizzare la macchina nello stesso modo pista o strada perché quando uno appunto va oltre un certo limite può diventare veramente pericoloso io penso di aver concluso questa questa puntata un po particolare non è che ce ne capitano spesso per fortuna lo dico per i clienti per qualunque cosa consultate il sito www.9000giri.it soprattutto nella parte archivio elaborazioni dove inseriremo anche questa bmw cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto ciao